Musica Ha salvato un cane in difficoltà scavalcando un cancello e attraversando un fiume, rischiando poi di annegare senza riuscire a tornare indietro a causa di un costone ripidissimo. È il rischio che ha corso Vincenzo Adragna, chef siciliano che nei giorni scorsi ha soccorso un cagnolino in difficoltà due passi dalle terme di Segesta, luogo turistico in provincia di Trapani. Qualche giorno fa stavo passeggiando per caso da un ponte quando ad un certo punto una copia ha tirato la mia attenzione dicendomi che un cagnolino era in difficoltà e non riusciva a risalire il costone roccioso, racconta fanpage.it Vincenzo. Non ho esitato un attimo a raggiungerlo ma poi ho avuto tante difficoltà nel tornare indietro. Alla fine l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Adesso l'uomo che da qualche mese gestisce anche un'associazione animalista ha adottato quel cucciolo che senza il suo aiuto probabilmente non si sarebbe salvato.